Grazie per avermi invitato, per avermi dato la possibilità di raccontare un po' quello che è stato per me questa avventura, questa esperienza, questa storia meravigliosa. Faccio i complimenti a tutte le persone che ho sentito perché sono 23 anni, 24 anzi, che siamo in attività, però vi posso garantire che tutte le volte resto incantata quando ascolto le storie, perché sono storie di persone che grazie a quella volta, grazie a quella decisione hanno cambiato la loro vita. Quindi veramente complimenti e grazie per ispirarci ogni volta a dare sempre di più e a coinvolgere e aiutare le più persone possibili a crescere in questa attività. Vi racconto un po' la mia storia, io quando ho conosciuto il Malife non ero assolutamente interessata a nulla perché io lavoravo in banca, avevo 28 anni, ero magra, ero direttore di banca già a 28 anni, mio marito era un marisciallo dell'Aromatica, quindi noi pensavamo comunque di stare bene. Ma quando ci invitarono ad una presentazione io assolutamente dissi no, non volevo saperne nulla, però sapete comunque ero una donna, lavoravo tanto e sapevo che purtroppo se avessi voluto avere successo nella mia vita dal punto di vista lavorativo avrei dovuto sacrificare tanto. Noi, i miei figli avrei dovuto sacrificare la famiglia, quindi fanno tutte quante le donne che vogliono fare carriera. Però mio marito per fortuna mi costrinse quasi a partecipare ad una presentazione perché mi disse non puoi dire no a qualcosa che non conosci e quindi andai a vedere questa Herbalife che per me era soltanto un nome sconosciuto. E quando ho visto effettivamente ho capito il network marketing, ho capito l'azienda, ho visto le storie di persone che come avete visto questa sera, avete visto una piccola parte di persone che ce l'avevano fatta, ho detto ma è severo tutto questo? Perché no? Così decidemmo di iniziare, la cosa importante è che prima di tutto mi dissero che potevo fare questa attività part time, io non avrei mai lasciato il mio lavoro, io ero innamorata del mio lavoro. Io sono figlia di un operaio, vi dico soltanto che noi abitavamo nelle case popolari di Napoli, dall'accento si sente che sono napoletana ma vivo nella zona di Castelli Romani adesso, vivevamo quindi nelle case popolari, ero papà e operaio, ho sempre visto tanti sacrifici nella mia famiglia per arrivare pelo pelo a fine mese e quindi quando ho visto questa opportunità ho detto cavolo, se è possibile perché no? E quindi mi dissero che io potevo farlo part time perché non avrei mai lasciato il mio lavoro e poi mi dissero anche un'altra cosa, nel sistema di marketing che poi scoprirete nel dettaglio nel corso della vostra crescita in questa attività, più persone aiutate e più crescete, quindi io potevo 100% fidarmi della persona che mi aveva invitato. Per cui decidiamo di cominciare e insomma per farvela breve abbiamo naturalmente utilizzato i prodotti, grandi risultati, ero usati grazie anche all'autorizzazione ma comunque era entusiasta il mio ginecologo li ho usati in gravidanza e in ammattamento, mio marito ci ha perso peso, io adesso praticamente ho 52 anni ma mi sento molto meglio di quando ne avevo 28 quando ho conosciuto Herbalife e poi naturalmente abbiamo deciso di fare tutto ciò che serviva per sviluppare questa attività. Nel corso del tempo le cose sono sempre andate bene, dopo un po' mio marito si è licenziato, io mi sono messa part time in banca, poi anche io ho lasciato il mio lavoro e la nostra vita è completamente cambiata. Oggi abbiamo belle macchine, abbiamo belle case, vi faccio vedere giusto qualche piccola immagine perché chiacchierare, chiacchierare però non ho foto della mia vecchia casa che praticamente era un micro appartamento, però ho qualche foto diciamo di quello che è un po' la nostra vita oggi. Quindi vi condivido giusto velocemente qualche foto. Allora, quella che vedete qui è una frase che ha cambiato per me, che dice prima lavori per l'invisibile e poi ti godi quello che è tangibile. Perché in questa attività costruisci, metti semini e poi improvvisamente avete sentito persone che hanno cominciato veramente a realizzare. Oggi abbiamo una casa meravigliosa, abbiamo comprato anche la casa al mare, oggi viviamo, vi ripeto, io abitavo nelle case popolari di Napoli, ho già avuto la possibilità di comprarmi una casa con la piscina, in un posto bellissimo nei castelli romani, vediamo tutta Roma la casa nostra, abbiamo comprato la casa al mare, in un posto bellissimo, un residence tutto particolarmente curato e molto molto diciamo importante. E poi quello che cambia sono un po' i giocattoli che cambiano. No, mio marito dice sempre la differenza tra un bambino e gli adulti sono i giocattoli che hanno un costo diverso. Quello che vedete giù in basso è l'ultimo giochino che abbiamo voluto comprare che è una moto d'acqua e mai avrei pensato di poter avere la mia macchina super attrezzatissima, vivere in una Porsche, avere esperienze meravigliose, queste sono alcune delle esperienze che io grazie a questa attività ho cominciato a realizzare. Ma ci tengo a sottolineare con ognuno di voi che quello che ha fatto la differenza, l'avete sentito anche in altre storie, è la libertà. Quando lavoravo in banca io uscivo alle 7 del mattino, tornavo alle 7 di sera, tornavo a casa nervosa, stanca, piena di problemi, non riuscivo naturalmente a scaricare i problemi di lavoro e me li portavo appresso, non avevamo il tempo di fare nulla, il fine settimana si faceva la spesa, si puliva casa e si facevano le cose che non si potevano fare durante la settimana. Quello che ci ha dato questa attività, oltre al fatto che dal punto di vista economico naturalmente è completamente cambiato tutto, è la libertà, la libertà di poter fare ciò che ci piace fare. Quando lo vuoi fare e dico anche con chi lo vuoi fare, poter scegliere veramente questo è qualcosa di fantastico. Però vorrei fare con voi 5 minuti di piccole riflessioni, quelle che hanno fatto la differenza per noi, quelle riflessioni che poi mi hanno fatto capire, in modo che possiate eventualmente prendere una decisione consapevoli di quello che vi stiamo presentando questa sera. Innanzitutto avete visto fatti, non opinioni, i fatti, fatti di un'azienda che è consolidata, un'azienda che ha 100% verificabile il suo fatturato, un'azienda che è molto concreta, dal punto di vista di serietà, di prodotti, di ricerca, di scienza, di tutto. E avete sentito soltanto una piccola parte di risultati anche del prodotto che questa azienda dà naturalmente come garanzia. Un'altra cosa importante è che abbiamo 43 anni di esperienza, non siamo nati ieri, Herbalife è nata nel 1980, da 31 anni quasi in Italia, quindi assolutamente è consolidata anche come azienda e come struttura. E poi quello che mi ha fatto riflettere, che secondo me è la cosa più interessante che mi ha fatto accendere tutte quante le lampadine, è che questa è un'attività che funziona. E sapete perché? Perché risponde alle reali esigenze di mercato. Noi abbiamo soluzioni per chi vuole perdere peso o controllare il peso. Abbiamo la soluzione per chi vuole migliorare le difese immunitarie, per chi vuole ritardare l'invecchiamento, per chi si vuole sentire meglio. Abbiamo la soluzione per chi cerca un lavoro flessibile. Molte persone hanno bisogno di avere un piccolo reddito part time, ma in realtà non hanno la possibilità di avere un lavoro flessibile che si può uscire intorno a te stesso e quindi non dover ulteriormente sacrificare ancora di più la tua vita. Qui è la possibilità di costruire un reddito alternativo addirittura lavorando da casa e non dipendere dagli altri. Un'attività che dipende soltanto da te, dove nessuno ti dirà mai quello che devi fare. Quello che noi facciamo sarà soltanto quello di accompagnarti. Se tu vorrai in questo percorso, come abbiamo fatto noi, ti aiuteremo passo dopo passo. Questa è una garanzia che, l'unica garanzia che vi possiamo dare è questa. Non vi possiamo garantire i guadagni, ma vi possiamo garantire il massimo supporto. Per cui, alla fine di questa chiacchierata, scegliete qual è la cosa che vi interessa di più. Magari soltanto l'utilizzo del prodotto perché avete voglia di migliorare il benessere, è un momento particolare in cui tutti vogliono tornare in forma. Abbiamo una soluzione. Magari avete voglia anche di autofinanziarvi il programma. Dice, guarda, magari grazie al network riesco anche a ripagarvi i prodotti e quindi avere i prodotti gratis. La persona che vi ha invitato vi accompagnerà e vi aiuterà proprio a prendere la decisione giusta. Ma sappiate che in questa opportunità avete anche la possibilità di avere un guadagno extra o, come molti di noi, che alcuni soltanto avete ascoltato, cambiare veramente la vostra vita dal punto di vista proprio di libertà, di tempo, di serenità, dal punto di vista anche di futuro. Parlate con la persona che vi ha invitato. Ditegli esattamente qual è la cosa che vi è piaciuta di più e sicuramente vi sarà aiutare nel prendere una decisione. Parlo di decisione perché la maggior parte delle persone ogni volta che deve prendere una decisione si fa 3.000 domande e pensa sempre chissà, forse, chissà funzionerà, non funzionerà. Vi posso garantire che prima viene la decisione e dopo viene la soluzione. La soluzione noi l'abbiamo e vi aiuteremo. Sta soltanto a voi decidere. Per cui la prima decisione che dovete prendere è cominciare. Decidete di cominciare. La seconda, decidete di cominciare per farlo funzionare. Questo è il consiglio che vi do. Non fate tanto per... Proviamo. Con un po' di impegno vi possiamo garantire che riuscirete a ottenere veramente dei risultati straordinari. E la terza decisione seguite il piano. Passo dopo passo. Quello che abbiamo fatto io e Luigi 24 anni fa ci siamo affidati alle persone che prima di noi avevano già fatto, avevano già realizzato quello che noi volevamo realizzare e abbiamo detto perché no. Sapevamo che ci avrebbero aiutato e li abbiamo seguiti. E come ultima riflessione che vorrei fare con voi è questa frase che secondo me ha cambiato totalmente la nostra vita. perché il futuro dipende da quello che facciamo oggi. Quello che siamo oggi è il risultato delle scelte che abbiamo preso nel passato. Le storie, i risultati delle persone che hanno raccontato un po' quello che hanno ottenuto in questi anni grazie a Ebalife è il frutto di decisioni prese qualche tempo fa. Avete sentito alcuni di loro che 3, 4, 10 anni fa hanno detto sì. Hanno preso una decisione e oggi grazie a quella decisione la loro vita è cambiata. Quindi se oggi vuoi cambiare o meglio, se almeno soltanto per un momento hai detto perché no, è oggi da prendere questa decisione. Questa decisione potrebbe veramente cambiare il vostro futuro. Quali sono le possibili?